Grazie 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 Che sono quelle originarie Vedo Se fa una ripresa da qui riesci a vederla Da qua Tutta la parte che incontro non c'è quella bella Di qua Niente di che Grazie Ecco Un po' così Ecco si guardi pure nello specchio Qui è anche pieno di Rami e tele Sì 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 Bene Qua che è di ronardi Questo è carino Guarda È bellissimo dai Guarda questo Quella parte lì tolacata Quelli lì La natura Suva del 1684 Suva del 1684 La natura suva del 1684 No eh Si va a venir qua Ah ma è sporco Il camionetto non si riesce Il camionetto non si riesce No Comunque invece No Grazie a tutti.